Sangui suge appena raccolte, a chi serve un salasso? Questo amato giù. Vi ringrazio per esservi rivolto a me. Grazie a tutti. Vi ringrazio per esservi rivolto a me. Vi ringrazio per esservi rivolto a me. Poveretti, che Dio vi accolga. È stato quel turco rinnegato, Shakulu. Io lo ammazzo! Ferma. Vi ringrazio per esservi rivolto a me. Ho dei problemi? Ma che gli prende? Hai visto? Ma se ho smesso di venire un mese fa, perché ho ancora le visioni? Perché? Beh, di sicuro è un tipo ardito.